Hai festeggiato come meglio non potevi la 200esima partita della carriera in Serie A, primo gol con la maglia del Bologna, un'altra grande giornata per te che stai vivendo un ottimo inizio di stagione. No, no, sono contentissimo per il traguardo delle 200 in Serie A, per il gol, il primo gol, in una partita comunque da queste parti sentita e sono contento perché la squadra sta facendo bene, oggi abbiamo sofferto un po', però tante volte le partite soffrendo si portano a casa, quindi sappiamo che dobbiamo fare bene, migliorare, però siamo contenti. Restituirai l'assist a Rodrigo a questo punto? Prima possibile, giuro, prima possibile io lo restituisco.